Ciao a tutti ragazzi, qui è il vostro Arche di Parla e nonostante tutto quanto, sono partiti comunque dei primissimi teaser per quanto riguarda zombie, sicuramente ricollegati alla seconda main quest che vedremo su Epidemia, in parte comunque leggermente mostrata nell'ultimissimo trailer in cui si vedeva comunque Samantha, si vedeva Weaver e si vedeva la nuova mappa zoo che presto arriverà appunto con il lancio della stagione 4, in cocomitanza con il lancio della seconda main quest, il secondo easter egg per portare avanti la storia zombie e poi in un secondo momento potersi finalmente recare anche a Berlino. I teaser sono due, il primo è un filmato di circa 3 secondi che ci mostra diciamo la classica scena di teletrasporto di Epidemia e un'altra sezione della mappa completamente nuova che è appunto zoo, sul momento non mi sembrava chiarissimo ma essendo il filmato del teletrasporto classico che appunto c'è in Outbreak mi sembra tranquillamente indicare che andremo appunto in questa mappa e essendo la sesta mappa in rotazione potrebbe essere un pochino complicato adesso trovare tutto quello che ci serve in queste mappe ma penso che sarà tra virgolette sempre peggio da questo punto di vista perché quando diventeranno 7, 8, 9 o addirittura 10 in futuro avere tante mappe comunque è un vantaggio perché è più cose da fare ma allo stesso tempo se ci serve magari una mappa specifica per trovare qualcosa o fare qualcosa potrebbe essere un pochino più fastidioso dato che la rotazione è come al solito casuale. Il secondo teaser è la parte un pochino più importante ci dicono infatti il prologo per la prossima mappa zombie around inizia il 17 di giugno per cui il 17 di giugno che parte la prossima season avremo finalmente il prologo probabilmente appunto la main quest che andrà un attimino a mettere le basi per quanto riguarda raggiungere la prossima mappa zombie around teoricamente berlino. A riguardo ci possiamo collegare a quelle che sono gli intel in game di recente raccolte dopo il primo easter egg di epidemia in cui Ravenov parla di alcuni scienziati russi che vogliono disertare da Omega e appunto allearsi al Requiem agli americani e fornire loro delle informazioni. Vanno quindi estratti e recuperati e portati al sicuro prima che vengono intercettati e uccisi probabilmente da Omega e come al solito Ravenov fa appunto di tramite e ci aiuta per gli easter egg per continuare appunto questa storia. Nell'immagine comunque vediamo questo oggetto che a me sembra vagamente una granata, un trasmettitore radio, una cosa veramente strana comunque sopra col simbolo dell'Urs per cui chiaramente è dell'Unione Sovietica probabilmente di Omega. Sotto c'è un messaggio di Ravenov come al solito firmato con la R in cui dice W probabilmente Weaver i disertori sono in rotta dobbiamo muoverci per l'estrazione molto probabilmente questo secondo easter egg sarà collegato a recuperare questi scienziati e portarli al sicuro tramite un'estrazione e spero nuovamente che si assimili un pochino al primo easter egg per difficoltà e complicatezza e che non sia appunto una cosa estremamente facile o estremamente guidata e specialmente la boss fight del primo easter egg mi è piaciuta veramente tanto, sarebbe stata la difficoltà o comunque l'impegno che ci voleva, sicuramente una ventata di aria fresca per quanto arriva dagli easter egg precedenti che erano molto molto più semplici e anche più corti. Questi sono al momento i due teaser che abbiamo e non è sicuramente malissimo per chi non avesse ancora visto il mio video di ieri che comunque nel caso vi invito a recuperare per tutta quanta l'analisi, il 14 di sera lunedì avremo tutte quante le informazioni precise con roadmap e blog e lì sono sicuro che per quanto riguarda l'epidemia ci daranno tantissimi dettagli, per la prossima mappa zombie dobbiamo secondo me aspettare il lancio vero e proprio della stagione 4 e lì pian piano tra easter egg, altri intel e altre cose del genere, pian piano arriveremo appunto al lancio di questa mappa e bisogna vedere se sarà veramente nella season 4.5 reloaded come tanti stanno prevedendo da diverso tempo e quanto durerà appunto questa season per calverarci un pochino su quanto tempo ancora da aspettare per questa prossima mappa zombie, speriamo non più di un mese, dato che le scorsi season sono durate tutte quante circa due mesi e 60 giorni. Piccola nota finale da Ananikos, il nostro leaker preferito per quanto riguarda Cold War, ha fatto notare che nell'ultimo filmato cinematico che è uscito di circa 2 minuti e 30 che spiega un pelino la storia di questa stagione 4, si notano un paio di armi completamente diverse che appunto ancora nel gioco non ci sono e potrebbero essere le armi che aggiungono in questa season. Una è la meli cremetellettici leggera e già ho detto che devono metterne una da diverso tempo, sembrava essere la HK21 ma invece quel leak e quel rumor si è rivelato completamente fasullo perché nel codice del gioco non c'è nessun riferimento a quell'arma, anche se ripeto che in futuro vederla sarebbe davvero il top come riferimento a Black Ops 1 e avere letteralmente tutti i mitraglioni di quel gioco. L'altra arma che si è notata è un Kiparisk, anche questo c'era su Black Ops 1, se ricordo soltanto sul multi e non su zombie e questa probabilmente dovrebbe essere immagino una mitraglietta, penso che comunque continueranno a utilizzare e aggiungere armi di tantissime classi per cui come al solito assalto, mitragliette, ha già messo un botto di cecchini, un botto di armi corpo a corpo questa season se ricordo bene c'erano 6 armi in tutto aggiunto, forse 5 per cui mi aspetto almeno altre 4-5, addirittura 6 per un'altra season è come al solito il top per avere più armi possibile, livellarle, sbloccare mimetiche, tutte le solite belle cose. Bene ragazzi, continua come al solito questa scia di briciole per quanto riguarda le informazioni tra un pienissimo trailer, altri teaser, altre informazioni che presto arriveranno ogni giorno aggiungiamo un pezzettino del puzzle fino ad arrivare finalmente alla stagione 4 e lì piuttosto che puzzle nerdare come degli assatanati per tutti quanti i contenuti che escono e appena specialmente arriveranno i primi teaser e riuscirà finalmente la prossima mappa zombie lì veramente dovranno praticamente tenerci fermi perché probabilmente giocheremo 24-7. Come al solito voglio sapere le vostre opinioni riguardanti questi primissimi teaser quello che andremo a fare su Epidemia in questa seconda main quest ricollegata anche alla mappa zo che verrà aggiunta queste armi che forse dovrebbero aggiungere viste dal trailer per cui una Meli, una Kiparis e chissà cos'altro per armi corpo a corpo o anche tutte le altre classi. Attendiamo dove ammettere con poca pazienza il 14 per tutte quante le informazioni e il 17 per la prossima season. Il video come al solito ragazzi quindi si conclude qui spero come sempre che vi è piaciuto e vi sia stato utile tutte quante le informazioni tra Treyarch, Anikos e altre cose sono qui sotto in descrizione se volete ci sono anche i link ai miei social che invito a seguire tra cui Instagram, Twitch e anche i canali Discord noi ci vediamo come sempre al prossimo video un abbraccio Alla